Vuoi dei tricipiti simili a dei cornetti alla crema ma non sai che esercizi fare? Non preoccuparti, c'è qui Papa Cadino che ti farà vedere la sua top 3 esercizi per avere dei tricipiti enormi. Ti consiglio di salvare il video e seguirmi qui e su Instagram se ancora non l'hai fatto. Oh, partiamo col top 1, il pushdown al cavo, che io faccio sia doppio che singolo. Doppio con la sbarra, come vedete, singolo invece tengo l'anellino. In entrambi tengo a mente le stesse cose. Massimo rom, portando avanti anche il gomito durante le esecuzioni in allungamento. L'esecuzione lenta. Poi passiamo al secondo esercizio, French Press, con i manubri. Questo lo faccio non con bilanciere ma solo singolo per evitare assimetrie. Anche qui ricerco il massimo allungamento e un'esecuzione lenta, però qui il focus è sul capolungo del tricipite. Ultimo ma non per importanza, solo perché le odio, le dips. Fondamentale dello streetlifting, non a caso le ho scelte queste per la possibilità di caricare e di progredire nel tempo rispetto agli altri due esercizi. Infatti, non ricerco un'esecuzione controllata ma una progressione di carico mantenendo un'ottima tecnica. Quindi se anche tu...